Non si nasconde alla vigilia del big match con la carrerese Paolo Indiari, la vittoria di Rimini ha messo la squadra Maranto nella condizione migliore per affrontare un avversario che messo tra le squadre che puntano alla Serie B ed il successo a spese della Fermana conferma come la carrerese sia una big del campionato, una squadra che sarà una bella verifica anche per gli Amaranto. Sì, c'è grande entusiasmo e arriva una delle orrazzate del campionato, una squadra importante fatta proprio per vincere, è un banco di prova fondamentale per noi per vedere chi siamo dopo il primo esame dei Rimini, vediamo che è stato quello più importante che ci dice. Le vittorie però aiutano sempre, l'Arezzo si presenta nella condizione migliore per affrontare questa squadra. Se il morale fosse basso si sarebbe del riovero, no, il morale è a posto, non c'è un predubio, non mi abbiamo preparato la partita, come tutte le settimane prepariamo l'avversario, né più né meno, non mi abbiamo preparato il Rimini la scorsa settimana, questa abbiamo preparato la carrerese. Carrarese, formazione attrazione offensiva conclamata. Attrazione anteriore, squadra importante, squadra importante in tutti i reparti, interiore, posteriore, centrale, squadra importante, importantissima, con 20 o quasi titolari. Tutti a disposizione in Casarezzo? Almeno di sorpresa l'ultima ora direi di sì. E anche la partita del centenario, siamo alla vigilia di un grande appuntamento, quindi ci vorrebbe un regalo ulteriore. Faremo di tutto, sapendo che la partita è molto, molto, molto difficile.